Ci siamo guadagnati da vivere pescando e trasportando il nostro prodotto più velocemente di chiunque altro. E quello che mi inorgoglisce di più è sapere che ho fatto tutto questo per i miei cari. Inizierà a perdere la memoria a breve termine, i luoghi, le date. Io non voglio che la mia famiglia mi guardi come lei mi sta guardando ora. Ho deciso di farmi da parte, di passare la mano. Voglio capire quale dei miei figli sarei in grado di prendere il mio posto. Credevo toccassi a Mario. La successione è una questione di sangue. Io ho creato l'anipsia, è più mia che di chiunque altro. Non smettere mai di sorridere. Perché rispondere con un sorriso a volte è peggio di una pugnalata. Guadagnati la mia fiducia. Alla fine ha già deciso a chi lascerà l'azienda. A Nina, o meglio a quello che la sposerà. Non solo tra Carla e Nina, c'è anche Lara. Non permetterò mai a quella ragazza di avvicinarsi a questa famiglia. In guerra, come in amore, ognuno sceglie le proprie armi. Per fare un lavoro pulito bisogna avere le mani pulite. Ma se vuoi lavorare con noi devi essere disposto a spiegarti. Adesso impara questa lezione! Intorno a te c'è solo morte! Nemo Bandera è un narcotrafficante. Io sono una persona umile. E se oggi sono Nemo Bandera, lo devo solo alla fatica, al sudore e alla fame che avevo. E non permetterò a nessuno di portarmi via quello che ho ottenuto. Non canzardare mai più a cucarmi di rispetto. Io voglio giustizia. E tu questa parola non la conosci nemmeno. In prima assoluta. Fino alla fine. Claudio Amendola. Il Patriarca. Da venerdì 14 aprile su Canale 5. Grazie a tutti.